Questa è la Menovassin Bait Rispetto all'altra vedete che è senza paletta e questa qua è un po' più da manovrare Oggi non parlo tanto perché c'è un po' di gente dietro quindi non voglio prendere da pirla Vediamo un po' come funziona un affondamento dobbiamo vedere purtroppo c'è anche l'acqua increspata vediamo vediamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.